Sicuramente sono molto contento, è stata una cosa un po' lunga, però alla fine abbiamo trovato l'accordo e siamo contenti tutti quanti. Ho firmato stamattina, adesso guardiamo avanti, ovviamente l'obiettivo è tornare a giocare le partite che abbiamo anche giocato quest'anno, cioè tornare a quei livelli in cui vogliamo essere. Quindi ci sarà difficile, però noi ci crediamo. I momenti di Champions di quest'anno sono la vittoria all'Iva, la vittoria contro Leone in casa che ha dato con la conferma alla qualificazione ai Ottavi e poi ovviamente il gol all'Ariance Arena è stata un'esperienza bellissima che ancora oggi mi fa più vivere. L'obiettivo anche personale ovviamente è di aiutare la squadra a tornare a fare quelle cose che abbiamo fatto in questi anni qui. Adesso in questo momento ci si dispiace la conclusione di questo campionato. Per noi abbiamo tanto, voglio anche io, di tornare a giocare ai massimi livelli. Anch'io adesso ho 30 anni, quindi non è che ho ancora tantissimi anni da giocare, quindi è stata anche una scelta di vita. Però alla fine pensavo molto che sto molto bene qui a Firenze, mi trovo bene con i campani e io sono convinto che qui si può anche tornare a questi livelli, cioè a livelli di Champions, a fare queste belle partite. Per questo ho scelto la Firenze. L'interesse c'erano da altrove, anche dalla Spagna, dall'Inghilterra e dalla Germania. Però alla fine sono contento di rimanere qui.